e siamo qua ma scusa c'è come cazzo ha fatto entrare a questo non voglio nessuno in studio mentre lavoro terribile facciamo un delirio ok sentiamo uno dei più belli assoli di guitarra veramente spaventoso uno due tre e che cosa è successo? ce la facciamo a sentirne almeno due minuti di questo brano se no interrompo la trasmissione me ne vado ma io che devo fare? allora siccome c'era una cosa vi voglio raccontare una storia ma scusa aiutatemi la morte ha cercato di colpirmi undici volte ma non è mai riuscita ad arrivarmi perché sono stato io più forte della morte tanti muoiono no? io non sono mai morto grazie a tutti